Ciao a tutti, cari amici e amici del seno del cancro, eccoci qui in mia compagnia. Scusate se a volte ho la tosse o colpo di tosse oppure la mia voce scende, ma purtroppo ho il covid, sono a casa tranquillo, però ho comunque deciso di girare questo video dedicato all'oroscopo settimanale dal 7 al 13 di novembre 2022. Vi ricordo che sono energie generali quindi non possono valere per tutti. Se vi va lasciatemi un like, un commento o un feedback, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Benissimo, incominciamo nel capire le energie per questa settimana, per voi del seno del cancro. Allora, vediamo la prima carta di 4, abbiamo la carta 61, trovare una soluzione. Poi, proseguiamo col secondo messaggio. Vediamo il secondo messaggio per voi del cancro. Abbiamo il 5 di Gabriele, poi un arcano maggiore o minole. Abbiamo la luna, arcano maggiore numero 18. E per finire questo bellissimo oracolo dell'Apocalisse. Vediamo un attimino, può uscire una carta sia al dretto che al rovescio. Vediamo, eh, cosa vuole dirvi questa carta. Ed è uscita la carta del drago, però è uscita rovesciata. Io per praticità la lascerò al dritto. Ok, ok, ok. Damo un piccolo zoom. Ok, allora. Qui, cari amici, se vi portate dal passato, o comunque dalle settimane precedenti, delle problematiche che riguardano la vostra vita di coppia, i vostri rapporti, qualcosa che ha a che fare con vicissitudini economico-lavorative, qui siamo di fronte a un punto di svolta, perché durante questa settimana, o comunque durante un breve periodo, riuscirete a trovare la chiave giusta che aprirà quella porta per risolvere quella situazione problematica. Quindi, riuscirete a trovare una soluzione a una dinamica o a un rapporto, ok? Qualcosa comunque che vi ha ostacolato, ripeto, può riguardare vari ambiti della vostra vita. Quindi, siete di fronte a questo problema che sicuramente riuscirete a risolvere. È importante però in tutto ciò non farvi coinvolgere dai drammi delle altre persone. Pensate più a voi stessi durante questa settimana e non tanto agli altri. Dovete essere pazienti con voi stessi e con coloro che vi circondano. Quindi, c'è comunque area di costruzione, c'è sicuramente un periodo positivo per trovare la chiave per aprire quella porta, ok? Quindi, se per caso avete avuto delle problematiche, avete avuto delle situazioni ostacolanti, qua sicuramente c'è comunque un'apertura, ok? Magari ci sarà maggior dialogo, maggior confronto con gli altri. Una cosa che vi dice questo 5 di Gabriele è quello di non farvi troppo, diciamo, sopraffarre dai problemi degli altri. Pensate ai vostri problemi. Pensate a uscire da questa fase anche un po' poco chiara. Diciamo che qui siete in una fase confusa della vostra vita, perché è uscita la carta della luna. C'è un qualcosa di poco cristallino. C'è un rapporto poco chiaro in qualcosa che non riuscite a capire in una situazione anche professionale. Dovete avere uno sguardo più profondo ed entrare più in profondità nei riguardi di quel rapporto interpersonale o di quella vostra situazione privata. Sicuramente dovete far leva sul vostro intuito e sulla vostra sensibilità. Qui in alcuni casi, non per tutti, potrebbe esserci un problema con vostra madre o con una figura femminile molto importante, quindi di riferimento per voi. Quindi se per caso avete avuto o state avendo tuttora delle problematiche con una figura femminile, soprattutto vostra madre, ma potrebbe essere una qualsiasi figura di riferimento, qui riuscirete comunque sia a aprire e a trovare una soluzione importante. Però dovete cercare di lasciare da parte le paure, perché la luna rappresenta anche la paura, rappresenta l'ignoto, qualcosa che comunque è anche insito dentro di voi, dovete diciamo sprigionarlo fuori e anche farvi capire dagli altri, non tenere sempre tutto dentro. Qui magari c'è stato o ci sarà ancora durante questa settimana, un ebreo periodo, una persona che in qualche modo voleva danneggiare i vostri progetti o la vostra serenità. Però dato che questa carta è uscita comunque a rovescio, qui sicuramente questo drago vi invita ancora alla prudenza a prendere bene gli occhi, soprattutto in quelle situazioni comunque poco chiare. Ma sicuramente il peggio è passato, quindi l'ostacolo può rimanere ancora durante questa settimana, però lo affronterete a testa alta. In alcuni casi durante questa settimana se siete in coppia potrebbe esserci diciamo un calo nell'attrazione fisica, però questo calo verrà compensato da un maggior impegno nella relazione. Quindi magari c'è maggior slancio diciamo sessuale, però questo calo di attrazione fisica sarà sicuramente diciamo traverete sostituito almeno in parte da un impegno nel portare avanti e nel capire alcune dinamiche della vostra coppia. Quindi grazie al vostro intutto, grazie al vostro fiuto, riuscirete a trovare una soluzione. Quindi questa chiave, qua potrebbe esserci anche perché no, l'acquisto di una casa, l'acquisto di un immobile, un trasloco, anche l'affitto di una casa. Perché qua diciamo potrebbe essere appunto la chiave. Oppure una chiave di svolta per far aprire una volta per tutte una determinata situazione lavorativa, progettuale, di soldi, relazionale. Ok, qua c'è comunque qualcosa di poco chiaro, poco genio da affrontare, lo affronterete sicuramente di petto, agirete anche distinto perché volete capire a tutti i costi che cosa si cela dietro quella dinamica o dietro soprattutto quella persona a cui state pensando. Ok? Benissimo caramici vi aspetto sempre qui sul Tarumen. Ciao a tutte, alla prossima!